Campitan Vincenzo Mastropasqua, il risultato forse bugiardo per quello che si è visto in pista. Molto bene, voi nel primo tempo siete guardati un po' nella ripresa 1-2 micidiali che probabilmente avete subito. Esatto, sul primo tempo siamo andati molto bene, una squadra si è vantata a vedere per quello che è, però nel secondo tempo purtroppo è andata male, abbiamo provato tanti tiri in porta però si è messa di mezzo anche un po' di sfortuna, però diciamo che la squadra ha risposto bene, so che io e i ragazzi stiamo lavorando bene durante la settimana e so che dalle prossime andrà molto meglio rispetto a questa. Senti sulla prestazione anche una buona tonicità, voglio dire fisicamente avete venuto fino alla fine, siete già a buon punto della preparazione? Sì, a livello fisico siamo tutti quanti bene, ci stiamo allenando con il nostro preparatore Gigi Daquino, ci stiamo trovando bene, le gambe rispondono, fisicamente stiamo a buon livello. Dopo due anni così così, trascorsi qui all'Azzurra con pochissime vittorie, cosa ti auguri in questo campionato? Dopo i due anni passati mi auguro ovviamente di arrivare, di vincere tutte quante le partite, quest'anno ci sono tutti i presupposti, la società ci ha messo in condizioni di raggiungere obiettivi molto alti, quindi noi non deluderemo la società e soprattutto i tifosi che sono venuti oggi e comunque seguono il Novara. Adesso c'è Trissino. Sì, esatto, andiamo lì e anche lì è una bella squadra, però sono tranquillo, abbiamo una squadra bella solida, bella unita, compatta fisicamente, stiamo bene, quindi nessuna paura.